Salve, io sono Giuseppe Medina, CEO di Manusa. Chiamo un'azienda internazionale leader nella creazione, sviluppo e manutenzione di porti automatiche e accessi intelligenti. Dopo oltre vent'anni sul mercato italiano, rafforziamo la nostra presenza come marchio ufficiale, con una nostra rappresentanza. In Manusa lavoriamo sempre per trovare le soluzioni migliori per i nostri clienti. Vogliamo offrire loro gli ultimi progresi della tecnologia, con soluzioni tecniche specifiche adattate ai diversi settori. Oltre 50 anni di esperienza in 90 Paesi sono la nostra migliore garanzia. Manusa è aperta all'Italia.